Presenti 297, votanti 293, astenuti 4, maggioranza 147, favorevoli 130, contrari 163, la Camera respinge. Onorevoli del Comitato dei Nove, vorrei che fosse chiaro che è stato respinto l'emendamento della Commissione di Merito. Quindi io vado avanti. Bene, è stato respinto. Siamo al 6.10 centemero. C'è il parere contrario del Governo e di tutti i relatori. La votazione è onorevole Gallo. La votazione è onorevole Gallo. Allora, che cosa succede? Colleghi, possiamo fare un po' di silenzio, per favore? Onorevole Fiano, mi dica. Niente. Bene. Non lo so, onorevole Stato, mi dica. Presidente, io credo che bisogna spiegare semplicemente cosa che è accaduto. In una coincitata votazione, in cui lei stava seguendo il desiderio di un collega di parlare o di non parlare, e gli stava chiedendo, il collega era distrato da altre cose, Colleghi, per favore. E non le ha risposto. Lei ha chiuso la votazione, nel frattempo che il nostro gruppo, e non credo solo il nostro gruppo, stava orientandosi sul voto. Questo è stato l'unico motivo per cui questo emendamento è stato bocciato. Noi non drammatizziamo nulla rispetto a questo fatto. Lei ha detto che avrebbe revocato la votazione, ma nella sua... Ma nella sua...